Ed ecco a voi un altro unboxing, questa volta dedicato ai supereroi, un po' particolari in realtà, perché questo è il Batman in versione manga di Jiro Kuwata. In occasione dello speciale dello spazio bianco dedicato ai 75 anni di Batman, avevo avuto il piacere e l'onore di recensire proprio il Batman di Jiro Kuwata. Avevo letto sostanzialmente i primi capitoli usciti all'epoca soltanto in versione digitale, per cui potete immaginare come l'uscita di questo cofanetto la attendessi con una certa trepidazione. Come vedete il cofanetto è costituito da tre volumi e insieme a loro abbiamo anche un set di adesivi costituito da illustrazioni e onomatopee tratte dal manga. Andiamo ad aprire. Questo è il sommario costituito da sette capitoli per il primo volume, altri sei capitoli per il secondo volume e ancora sei per il terzo e conclusivo volume. Proprio come la versione digitale, il manga è in bianco e nero, parte alcune pagine e si conclude con un articolo. Anche il secondo volume ha la stessa struttura, anche col terzo volume abbiamo sempre delle storie e anche qui abbiamo un redazionale conclusivo. Sì, forse la parte redazionale è un po' troppo scarna e si poteva provare a fare qualcosa di più, magari qualcosa di originale, però comunque avere i tre volumi non un'unica soluzione. È comunque apprezzabile, molto apprezzabile. L'acquisto del cofanetto risulta comunque molto interessante e probabilmente anche vantaggioso rispetto all'acquisto dei singoli volumi. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Per cui, saluti a tutti!